Qui siamo a Bomba nel giacimento di Colle Santo e qui vicino a noi ci sono i due pozzi che potrebbero partire subito per produrre gas naturale liquefatto, LNG. Ma a che punto siamo con il progetto della LN Energy, una società inglese che ha presentato un progetto più leggero a quello che era stato presentato in passato? Abbiamo l'ingegnere Francesco Di Luca che è responsabile del sito minerario Montepallano. Ingegnere, l'ITER? Sì, l'ITER è stato avviato a inizio di quest'anno, del 2024, e tutti i vari step procedurali sono stati conclusi nel rispetto delle richieste della Commissione Via. Si è affrontata un'ultima fase di consultazione dei portatori di interesse pubblico e quindi ci attendiamo entro fine anno un pronunciamento della Commissione Tecnica sulla compatibilità ambientale o meno di questo progetto. Soddisfazione viene espressa per il parere favorevole della Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche che prevede delle prescrizioni che sono assolutamente di buon senso e vanno temperate ai fili del controllo e monitoraggio del giacimento e dei fenomeni eventuali di subsidenza. L'ingegnere Di Luca chiarisce che il progetto Small Scale LNG non prevede iniezione di CO2 nel giacimento e pone grande attenzione alla salvaguardia del territorio. Chiaramente ci sono ancora portatori di interesse che ritengono che questo giacimento non vada sfruttato. Noi riteniamo che il progetto che abbiamo concepito e mandato al Ministero dell'Ambiente sia assolutamente più sostenibile rispetto al passato. Ci siamo impegnati in tutta una serie di studi e di approfondimenti tecnico-scientifici per cercare di risolvere o quantomeno dare delle risposte al principio di precauzione che in passato aveva stoppato i vecchi progetti. Chiaramente non c'è più da fare il gasdotto che attraversa tutta la Val di Sangro, non c'è da fare nuovi pozzi. I pozzi che vengono messi in produzione sono questi qui alle mie spalle. L'impianto è chiaramente rispetto al passato un impianto molto più compatto che tratta il gas del giacimento, cattura la CO2 che sta insieme al gas e la rende liquida per immissione nel mercato industriale. E poi determina questo prodotto, l'LNG, che attraverso delle autobotti viene portato via. Quindi certamente il progetto è meritevole di attenzione più del passato. Quali benefici per il territorio? Cosa si produrrà? I benefici possiamo sintetizzarli in almeno due aspetti. Certamente è un beneficio economico per il territorio, non sfuggirà che mettere in produzione questo giacimento in termini di ricadute occupazionali, in termini di ricadute di indotto. Quindi in termini macroeconomici genera effetti positivi. C'è comunque anche un effetto indiretto di tutela del territorio, perché quando si fa questo impianto vengono messe a terra tutta una serie di azioni che possono portare anche al consolidamento di alcune criticità idrogeologiche, come diceva lei. Cioè in altri termini si può usare questo progetto come leva per provare a risolvere anche criticità che sono endemiche su questo territorio. Certamente le tecniche e le prescrizioni che verranno fuori, quindi sul sistema di monitoraggio, sull'analisi in tempo reale di eventuali movimenti di subsidenza e quant'altro, possono far star tranquilli, perché in caso di problemi, molto tempo prima il problema viene fuori, ci si può fermare e operare adeguatamente. Ultima domanda. Questo impianto si può armonizzare con una crescita anche turistica di questo territorio? Certamente in Europa, ma anche in Italia abbiamo tanti esempi dove il turismo può andare di pari passo a uno sviluppo industriale. Anzi, nel momento in cui, come appunto il territorio giustamente dice, c'è una forte vocazione turistica, si può utilizzare l'impianto e la leva economica che l'impianto produce per accrescere ulteriormente quella vocazione turistica del territorio.